Grazie a lei e una buona serata ai suoi ascoltatori. Professore di prevenzione ambientale all'Università Statale di Milano e SIMA è la società italiana di medicina ambientale, corretto? Esattamente. Allora, innanzitutto vorrei spiegare ai nostri telespettatori, che non credo tutti ne siano bene a conoscenza, di che cosa si occupa la medicina ambientale e nella fattispecie concreta, SIMA, che cosa fa, che valenza viene ad avere? Tra l'altro lei anche da poco ha assunto un altro ruolo molto importante perché è entrato nel board del Well Boarding Institute, c'è l'organizzazione leader mondiale. Internet, well building institute. Esatto, dell'organizzazione mondiale, leader per quanto riguarda l'assalubrità degli edifici. Insomma, ha una competenza molto molto approfondita per quel che riguarda la salute indoor, negli ambienti esterni, insomma una vita come dovrebbe essere per poter non contrarre troppe patologie, ma per semplicizzare al massimo. Ci dica la medicina ambientale che cos'è e anche SIMA cosa fa? Sì, allora, la medicina ambientale è un approccio, è una branca della medicina, si occupa di salute, tutela di salute pubblica ed è un approccio multidisciplinare, apto a far sì che ciò che noi chiamiamo ambiente, ossia ciò che ci circonda e ciò che ci pervade, quindi anche ciò che mangiamo, beviamo e respiriamo, non diventi un fattore appunto ambientale che possa provocare infortunio, morte o malattia. Sì, ma è la società scientifica italiana di riferimento di questa disciplina, ripeto, molto multidisciplinare, chiedo scusa per il gioco di parole, e noi facciamo ricerca scientifica in primis, facciamo formazione, abbiamo un master universitario che è l'unico oggi disponibile in Italia erogato con l'Università degli Studi Niccolò Cusano, facciamo tanta attività di incontro e di ascolto sui territori con la società civile, ma anche con le amministrazioni locali, siamo impegnati in tanti dossier purtroppo scottanti, come per esempio quello dell'Ilva di Taranto, ma non solo, e facciamo anche tanta disseminazione e cosiddetto knowledge transfer dal mondo della scienza a quello dei decisori politici a livello nazionale ed internazionale, perché noi siamo sì una società italiana, ma siamo presenti con sedi anche in Europa e anche negli Stati Uniti e quindi abbiamo relazioni quotidiane e costanti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con tutti i più importanti enti delle Nazioni Unite e non solo che si occupano di salute pubblica, di ambiente, di energia e via dicendo. A proposito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono dei dati abbastanza inquietanti, perché sembrerebbe che almeno il 24% delle malattie e delle patologie sia causata da fattori ambientali e nei bambini addirittura il 33%, quasi il 34%, è così? È un numero così rilevante? Sì, è anche un numero che è in via di ridefinizione e purtroppo con percentuali più elevate ancora. Noi incontriamo durante ogni nostra giornata almeno 500 sostanze di sintesi, chimiche di sintesi tossico-nocive che ci raggiungono attraverso la nostra pelle come prima barriera, piuttosto che le mucose esposte tipo le congiuntive degli occhi e piuttosto attraverso ciò che respiriamo, ciò che mangiamo e ciò che beviamo. E le patologie collegate a questi inquinanti sono in fortissimo aumento a tutti i livelli e interessano bene o male tutti gli organi del nostro corpo. Il principale problema oggi a livello mondiale e peraltro anche a livello italiano è quello dell'inquinamento atmosferico che causa nel mondo 7 milioni di decessi prematuri all'anno e in Italia 90 mila, Italia primo paese in Europa per numero di morti premature dovute appunto all'inquinamento atmosferico e in sintesi più sono piccole particelle che noi inspiriamo più sono pericolose perché possono bassassare anche la barriera ematica, raggiungere attraverso il nostro circolo sanguigno diversi organi, diversi distretti e portare lì l'insorgenza di patologie specifiche. Però a fronte di questi studi molto approfonditi, poi alcuni si sono legati anche alla diffusione del Covid perché sembrava ci fosse, adesso magari ci spiegherà meglio se può essere oppure non una correlazione tra il diffondersi della pandemia in certe aree anche del nostro territorio e l'inquinamento atmosferico. A fronte di tutto questo la nostra situazione in modo particolare in pianura padana è particolarmente grave? La pianura padana a livello di inquinamento atmosferico è una delle aree più inquinate d'Europa sicuramente la più inquinata d'Italia ma è dovuto principalmente alla sua conformazione oro-geografica nel senso che a nord abbiamo le Alpi e quindi abbiamo un ristagno di tutto ciò che viene messo soprattutto nel periodo invernale che fa assimilare la pianura padana a una grande stanza con un soffitto alto alcune decine di metri, quindi una stabilità atmosferica, un'assenza di pioggia un'assenza di venti, una umidità molto importante che consente ovviamente a tutti gli inquinanti emessi partendo dalle polveri, quindi dal particolato fine o sottile di rimanere a lungo ed è il motivo per il quale abbiamo sforamenti continui soprattutto nei mesi invernali. Noi abbiamo studiato per primi al mondo avendo individuato una correlazione tra la concentrazione di polveri appunto di inquinamento atmosferico e la velocità di diffusione di questo SARS-CoV-2 del virus responsabile del Covid-19, siamo prima usciti con un position paper, poi con una serie di pubblicazioni che sono state veramente citatissime a livello internazionale, si tratta di un'ipotesi meccanicistica ovvero sia del fatto che elevati concentrazioni di polveri possono tenere vivo e vitale il virus per qualche metro in più rispetto ai 1 o 2 metri considerati di sicurezza per le goccioline più grosse e quindi se noi respiriamo all'aperto in certe condizioni possiamo aumentare il numero di soggetti che sono esposti alle goccioline che noi emettiamo, ossia questo aerosol di droplets. C'è stata molta discussione intorno a questo tema, però ripeto a livello internazionale la nostra prima ipotesi, i nostri primi studi sono stati confermati da moltissimi altri studi, abbiamo anche individuato tracce dell'RNA virale del SARS-CoV-2 sul PM10 di Bergamo, sul particolato di Bergamo, ovviamente l'abbiamo trovato inattivo e quindi sotto forma di tracce ma significa che c'era. Peraltro non è una avere scoperto qualcosa di importante, nei fatti già molti altri virus a partire dall'ebola, da quello del morbillo, il virus sinciziale umano possono essere trasportati dal particolato o legarsi al particolato e con questo fare quel tratto in più di strada rispetto a quello che farebbero quando le concentrazioni di polveri sono inferiori. Consideri che nel periodo invernale, quando abbiamo 3-4 giorni consecutivi di sforamento, abbiamo un numero di polveri per centimetro cubo che superano le 160 mila unità, quindi se le potessimo vedere probabilmente non riusciremmo a guardarci in faccia stando un metro di distanza. Mamma mia. Ecco, per spiegare bene, perché tanti magari dicono, vabbè, all'aperto è diverso indoor, cioè dentro le abitazioni, gli uffici, gli ambienti di lavoro, eccetera, la situazione è diversa e c'è stato un po' un distinguo. Quanto è inquinato anche l'ambiente che dovrebbe essere il più protetto in assoluto, il migliore anche, ovvero dentro le abitazioni e dentro qualsiasi altro habitat che si ha tra le mura? Innanzitutto noi trascorriamo tra il 70 e il 90% del nostro tempo all'interno di ambienti confinati, cosiddetti indoor, che sia casa, ufficio, palestra, ristorante o bar o cinema. Qui l'inquinamento è mediamente 5 volte superiore rispetto all'esterno ed è superiore perché in parte importiamo dall'esterno l'inquinamento outdoor e in parte la maggior parte lo produciamo internamente con le attività cosiddette umane indoor, le attività di cottura dei cibi, di igiene e pulizia della casa piuttosto che dall'utilizzo di elettrodomestici, magari come un aspirapolvere che non aspirando bene risolleva le polveri che si sono depositati a terra su tappeti o su tessuti. Quindi è assolutamente necessario e importante mantenere, ossia creare dei frequenti ricambi d'aria all'interno degli ambienti confinati e utilizzare anche laddove necessario tecnologie per il monitoraggio dei principali inquinanti che sono le polveri VOX, ossia i composti organici volatili e la CO2, altro tema importante, e dall'altro lato dei sistemi per mitigare la presenza di questi inquinanti come può essere l'apertura di una finestra o di una porta, ma anche sistemi meccanizzati di ventilazione piuttosto che sistemi di purificazione dell'aria. Noi diciamo che siano validati scientificamente perché possano realmente difenderci da questi inquinanti e non siano solo dei giocattoloni magari di bell'aspetto ma inutili ai fini della prevenzione. Ma l'inquinamento viene da fuori? L'inquinamento viene in parte da fuori sicuramente, in parte lo portiamo noi attraverso i nostri vestiti, la suola delle nostre scarpe, ma il grosso lo produciamo con le nostre attività domestiche, ripeto, quando cuciniamo, se usiamo una stufa, un caminetto, quando puliamo casa produciamo inquinamento. Quindi c'è questa anche inconsapevolezza, uno pensa di fare un'azione positiva e invece può anche peggiorare certe situazioni in presenza soprattutto di soggetti che possono essere più fragili e più a rischio. Fragili bambini, anziani e poi c'è una parte di inquinamento dell'aria sempre indora che viene in maniera naturale dal terreno e dal gas radon che in Italia oggi è la seconda causa di morte subito dopo il tumore al polmone, cioè per tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta ed è un gas naturale in odore e in colore che emerge spontaneamente dal terreno e in quelle case in cui magari non ci sono le fondamenta o non ci sono solette appositamente predisposte di protezione per impermeabilizzare le fondamenta, può risalire attraverso tubature o anche all'interno dell'abitazione e quindi è importante, essendo un gas radiattivo, si lega facilmente alle polveri, noi lo respiriamo quando raggiunge i nostri polmoni e dai polmoni ovviamente a seconda se è legato a polveri più o meno fini può raggiungere anche altri organi quando inizia a decadere essendo radiattivo libera delle radiazioni che possono incidere a livello biologico con le cellule e con il DNA e generare il cancro. E questa è una delle conseguenze. A questo proposito, siccome lei mi ha citato questa patologia purtroppo è molto frequente, sempre più frequente, che ha una grandissima incidenza nella popolazione, quali sono le patologie correlate a queste forme di inquinamento? Dopo vedremo anche altri danni all'ambiente e non soltanto? Certo, il primo apparato, quello più interessato è quello cardiovascolare, tant'è che la prima causa di morte per inquinamento atmosferico è l'ictus del miocardio o l'infarto, o anche ictus cerebrale, ma comunque riguarda quell'apparato lì. Poi a seguire ci sono le patologie che interessano l'apparato respiratorio, quindi il sistema respiratorio e quindi dalle forme leggere di allergia che portano ad asma la BPCO, ossia la broncopneumopatia cronico-ostruttiva fino ad arrivare poi anche al tumore del colmone. Poi ci sono forme che possono interessare anche il nostro apparato neurologico, tant'è che è stato dimostrato che nei luoghi più inquinati ci sono incidenze maggiori di forme di Alzheimer o di Parkinson. Insomma, interessa un pochettino tutti gli organi, dipende dal tipo di inquinante. Gli inquinanti sono moltissimi, ci sono anche inquinanti, come dicevo prima, che noi purtroppo prendiamo attraverso ciò che beviamo e ciò che mangiamo e questi per esempio i FAS, cosiddetti, sono responsabili il più delle volte di patologie che interessano il sistema metabolico con un numero di casi importanti di diabete giovanile in aumento, casi di autismo, ovvero sia di disturbi dello spettro autistico, un bambino su 55 in Italia ne soffre e sempre per dare dei numeri poco confortanti possiamo dire che negli ultimi 10 anni il tumore è diventata la prima causa di morte nei bambini e giovani adolescenti con un'incidenza di un bambino che nasce e purtroppo muore di tumore e entro i 16 anni di età siamo a 1 su 500. Quindi sono numeri preoccupanti che incidono peraltro molto anche sui costi sanitari. A livello europeo è stato calcolato che solo l'inquinamento atmosferico in costi sanitari diretti incide sul 10% del PIL e in Italia è stato calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità che ciò che noi respiriamo agli interni degli ambienti di casa, di lavoro, di vita incide per il 40% sul totale delle morti premature e quindi circa sul 4% del PIL nazionale. Insomma numeri davvero preoccupanti. Assolutamente, quindi vediamo i danni sociali, i danni economici e principalmente anche alla salute. Per spiegare a chi non capisce, comprende bene la medicina perché poi non tutti abbiamo queste conoscenze approfondite. La prima citava per esempio l'ictus del miocardio provocato appunto da, è un esempio di quelli che lei ha fatto, da questi inquinamenti. Ma come può avvenire questo? Come lo si spiega? Oppure un'incidenza maggiore dell'Alzheimer, quindi questa degenerazione cognitiva che poi ha anche questo, ha uno spettro dell'Alzheimer perché veramente ormai abbiamo visto che si manifesta in varie forme. Come può avvenire questo? Cioè il nostro organismo si avvelena in qualche modo? Ci sono sostanze che lo intaccano? Sì, esistono varie forme. Sicuramente il bioaccumulo di sostanze tossiconocive significa che noi le assumiamo respirandole, mangiandole, bevendole o a contatto e nel corso degli anni queste sostanze raggiungono una tale concentrazione o quantità che generano malattia. E nel caso specifico delle polveri queste sostanze creano una sorta di, per usare un termine semplice, una sorta di infiammazione continua di certi tessuti, di certi organi che può portare poi a delle conseguenze nefaste. Indebolisce peraltro anche il nostro sistema immunitario. Infatti, quello volevo chiederci, va a intaccare anche il sistema immunitario. La tiroide è coinvolta? La tiroide direttamente no, ovviamente essendo un organo che governa attraverso la produzione di una serie di ormoni e anche altri organi può venire coinvolta, ma ad oggi che io sappia non ci sono studi specifici. Consideri che è una disciplina relativamente nuova, noi abbiamo in Italia aperto questa società scientifica sette anni fa, abbiamo dato un'idea innovativa di medicina ambientale rispetto a quella per cui era nata negli Stati Uniti, la medicina ambientale era nata come sistema per andare a curare, dico tra virgolette, i campi battaglia post bellici in cui si erano stati usati armi chimiche e batteriologiche. Noi gli abbiamo dato una dimensione più simile a quella dichiarata dall'OMS, ovvero sia di proteggere l'essere umano e quindi anche gli animali e i vegetali da quello che sono gli inquinanti complessivi dell'aria, dell'acqua, del suolo e anche l'elettromagnetismo. Sostanzialmente quindi l'inquinamento, adesso fa riferimento anche a situazioni post belliche e speriamo che non ci siano, anche se le guerre inquinano molto sinceramente. Infatti bravissimo, c'è inquinamento biologico, chimico ed elettromagnetico, queste sono le tre grandi formule. Chimico, fisico, biologico e elettromagnetico. Ecco, c'è anche quello fisico legato a che cosa? Emissioni proprio di... Beh, ma per esempio le polveri sono un inquinante fisico. Perfetto. Allora, su questi quattro aspetti, perché giustamente l'hai aggiunto un altro che è interessante, abbiamo parlato anche fino adesso, e accennando anche il discorso elettromagnetico, proprio accennando, ci rivediamo tra pochissimi secondi, guarda il professore, e anche voi telespettatori, restate con noi, c'è la pubblicità e ritorniamo insieme tra poco. Grazie.